buongiorno ragazzi in questo video ci occupiamo del disegno di un'ombra all'interno di nicchie con calotta superiore emisferica o piatta ma vediamo di capire bene di cosa si tratta la nicchia è sostanzialmente un elemento cavo ricavato nel muro di una struttura architettonica che può avere appunto una copertura a calotta emisferica e di solito in queste nicchie vengono collocate statue elementi di scultura insomma i raggi luminosi del sole producono un'ombra all'interno di questa cavità che cambia a seconda del tipo di copertura della nicchia che può essere ripeto a calotta emisferica oppure per esempio può essere una copertura piana la nicchia ha comunque una pianta semicircolare ma la copertura superiore eppure semicircolare ma piana anziché semisferica e vediamo che tipo di ombra sia in questo caso allora cominciamo a disegnare la linea di terra e ci poniamo una distanza di 6 cm dal margine il filo del foglio della squadratura stiamo utilizzando un foglio di 24 x 33 cm quindi a 6 cm collochiamo la linea di terra allora cominciamo a disegnare la prima nicchia con calotta emisferica supponiamo di avere un diametro di 8 cm e allora possiamo staccare qui 4 cm disegniamo l'asse della nicchia da questo punto portiamo giù questa linea e disegniamo la semicirconferenza che rappresenta la nicchia vista in pianta quindi centro in questo punto e disegniamo questo semicirchio questa semicirconferenza per esattamente che rappresenta la vista in pianta della nicchia portiamo dunque su queste estremità prolunghiamo questa linea supponiamo che il piano di imposta della copertura si trovi a 9 cm al piano orizzontale quindi disegniamo questa linea orizzontale compasso centro in questo punto l'apertura rimane la stessa e disegniamo dunque questo arco abbiamo dunque la vista frontale proiettata sul piano verticale della nicchia e la vista in pianta sul piano orizzontale e ora supponiamo che i raggi luminosi abbiano un'inclinazione pari a quella della diagonale del cubo che ha per faccia anche questo piano verticale e questo piano orizzontale il che vuol dire che la loro proiezione sul piano verticale è di 45 gradi e la proiezione sul piano orizzontale è pure di 45 gradi e allora dividiamo questo raggio in parti non necessariamente uguali ma in un certo numero di parti possono anche essere parti uguali per esempio ciascuno di un centimetro denominiamo questi punti con dei numeri portiamo su questi punti fino a incontrare l'arco visto in prospetto bene abbiamo due punti uno primo due primo tre primo quattro primo cinque primo da questi punti qua conduciamo delle linee inclinate di 45 gradi e che l'inclinazione raggio meno si proiettate sul piano orizzontale fino a incontrare la curva della nicchia del fondo della nicchia otteniamo questi punti di intersezione dai quali tracciamo delle linee verticali anche da questi punti portiamo delle linee proiettanti inclinate di 45 gradi tracciamo anche questa linea proiettante bene e allora per il tracciamento dell'ombra per l'individuazione del contorno dell'ombra interna della nicchia partiamo dal punto uno questo raggio luminoso si spezza qui sale e incontra la proiettante dal punto uno primo in questo punto dal punto due secondo abbiamo questo raggio luminoso che si spezza sul fondo della nicchia sale e incontra il raggio che parte da due primo in questo punto il punto 3 dal punto 3 secondo parte questo raggio che si spezza sale incontra il raggio che parte da tre prima in questo punto dal punto 4 secondo parte questo raggio luminoso si spezza sul fondo della nicchia sale incontra il punto che parte da quattro primo in questo punto dal punto 5 secondo parte questo raggio si spezza qui sale incontro del raggio che parte dal punto 5 prima in questo punto tracciamo anche questa linea unendo questi punti abbiamo la linea che delimita l'ombra possiamo utilizzare un curvilino ma possiamo anche disegnare mano libera se abbiamo la mano abbastanza firma questo è il contorno dell'ombra possiamo ricalcare il contorno anche della nicchia con pendino di spessore maggiore se disegniamo a penna con matita morbida se disegniamo a matita possiamo tratteggiare la parte in ombra grazie bene possiamo passare ora al disegno dell'ombra all'interno di una nicchia che abbia la copertura piana nicchia è sempre a base semicircolare e la cominciamo a disegnare la nicchia che può avere un diametro alla base può avere un semicerchio che ha lo stesso diametro di questa nicchia cioè 8 cm e allora posizioniamo più o meno l'asse qui stacchiamo 4 cm disegniamo quindi questa semicirconferenza con il centro qui ecco portiamo su questi punti di estremità supponiamo che l'altezza della nicchia sia pari al punto di sommità di questa nicchia a calotta emisferica quindi ci troviamo più o meno qui disegno delle ombre allora come abbiamo fatto nel primo caso dividiamo questo raggio in parti non necessariamente uguali ma in un certo numero di parti ad esempio in 4 parti 1 2 3 e 4 numeriamo questi punti da questi punti portiamo su delle linee verticali fino a incontrare la copertura piana dell'anecchia bene abbiamo i punti 1 primo 2 primo 3 primo 4 primo 4 primo 5 primo da questi punti linee inclinate di 45 gradi sono i raggi luminosi proiettate sul piano orizzontale fino a incontrare il fondo cilindrico della nicchia dividiamo anche questo raggio in parti uguali tracciamo queste linee inclinate di 45 gradi e portiamo su anche questi punti abbiamo allora 6 primo 7 primo 8 primo e 9 primo abbiamo allora 6 primo disegniamo quindi questi raggi inclinati di 45 gradi allora per il disegno dell'ombra individuiamo i punti per i quali passa l'ombra la linea che delimita l'ombra interna alla nicchia punto 1 secondo parte questo raggio si spezza sul fondo della nicchia e incontra questo raggio che parte dal corrispondente punto 1 primo qui punto 2 secondo parte questo raggio si spezza sul fondo della nicchia e incontra il raggio che parte dal punto 2 primo in questo punto il raggio che parte dal 2 primo dobbiamo però portare su anche questi punti e allora dal punto 3 secondo parte questo raggio si spezza in corrispondenza del fondo della nicchia parte va su incontra il raggio che parte da 3 primo in questo punto punto 4 secondo parte questo raggio si spezza sul fondo della nicchia sale su incontra il raggio che parte da 4 primo in questo punto e così via 5 secondo si spezza incontra il raggio che parte da 5 primo qui se secondo il raggio parte si spezza sul fondo sale su incontra il raggio da 6 primo qui da 7 secondo questo raggio qui si spezza sale incontra il raggio che parte da 7 primo qui e quindi dobbiamo anche considerare questo punto qui che portiamo su e allora il raggio che parte da 8 secondo si spezza in questo punto sale su e incontra il raggio che parte da 8 primo in questo punto qui ecco la successione di questi punti da luogo al limite della curva interna che se ci facciamo caso è un quarto di circonferenza se infatti ci entriamo qui col compasso questi punti si trovano allineati lungo questo arco di circonferenza l'ombra ha questo limite possiamo intanto ricalcare i contorni della nicchia quindi non 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 ma non ci Grazie a tutti. Grazie a tutti. E l'ombra interna di una nicchia con copertura piana. Bene, possiamo fermarci qui. Buon lavoro.